Salve! Allora, ci troviamo al negozio di cibo per animali. Divertente, vero? Hyams! Mi piace un sacco la vetrina, con tutti questi adesivi carini. Poi ho scoperto che là sopra c'è un adesivo che mi ha smaventato un po'. Tetra! Ma vorrei dire quattro in greco ce l'avrà con i cani. Con i cani tristi e tetri. Boh!